Allora Roberto facciamo un giochetto. Oh finalmente. Allora la regia adesso ci mostra un quadro. Ah non si mangia. No allora. No si mangia anche con l'arte. Questo è il Salvatore Mundi. Ti piace? E beh. Bello eh? Ma quanto saresti disposto a spendere per averlo? Ma a chi è attribuito? Eh ti posso dire che è attribuito a Leonardo da Vinci ma non è neanche sicuro. Non è il mio campo ma se davvero avessi tanti soldi li spenderei per avere un Leonardo in casa. Eh. Mi lascerei sedurre ogni giorno osservando questa bellezza. Allora guardiamo contanto cos'è successo. Cos'è successo? Guarda un po'. 450 milioni di dollari. Il Salvatore Mundi di Leonardo è diventato il quadro più caro mai venduto al mondo. Il quadro più caro mai venduto al mondo 450 milioni di dollari lo ripetiamo e tutto questo ci fa pensare che il mercato e il collezionismo d'arte oggi sembra avere preso il posto dei musei. È come se il mercato dettasse il valore di un'opera d'arte. Ma è davvero così? E come si coniugano gli interessi privati con le opere d'arte conservate nei musei? Insomma che fine ha fatto la bellezza? Allora noi ne parliamo con un ospite d'eccezione Fabrizio Moretti segretario della Biennale di Arte Antiquariato di Firenze e oggi consigliere scientifico delle gallerie e degli uffizi di Firenze. Benvenuto. Buongiorno. Allora è davvero il mercato che detta il valore di un'opera e che fine ha fatto il valore del bello? Sicuramente il mercato detta il valore perché in base alla richiesta appunto si crea il prezzo del dipinto. Questo Leonardo che ha fatto 450 milioni di dollari nell'esempio Leonardo il sogno scultore, pittore, scienziato è impossibile avere un Leonardo e qualche anno fa invece questo fortunato acquirente ce l'ha fatta. Chiaramente esiste un altro tipo di valore che io adoro di più che è quello intellettuale. Sono dei quadri che possono costare poco ma che sono fondamentali per la storia dell'arte. Ecco questi io prediligo e vorrei che appunto i nostri giovani anche imparassero ad apprezzarli. Ma la possiamo chiamare cacciatore di bellezza? Direi di sì. E dal mercato dell'arte sei entrato poi di fatto nel mondo dei musei. La novità è che sei diventato consigliere scientifico. Che ruolo hai consigliere scientifico? Esatto. Quale sarà il suo ruolo? Allora sarà un ruolo molto interessante che per la prima volta i mercanti invece di essere scacciati dal tempio entrano nel tempio. Che è quello appunto degli uffizi, il museo è più importante al mondo. È un onore per me aiutare e mettere a disposizione appunto la mia competenza, appunto quella di mercante. Mi estranierò appunto dalle competenze scientifiche perché i miei colleghi sono sicuramente più bravi di me. Ma se posso aiutare i musei a vagliare i prezzi delle opere sarò più che contento nel farlo. Ecco come si stabilisce il valore di un'opera d'arte? E' interessante, si stabilisce dalla rarità, dall'autografia e dalla condizione, dallo stato di condizione. Allora vogliamo ricordare questo, la galleria degli uffizi contiene una delle più importanti raccolte di dipinti al mondo eppure continua ad acquistare opere d'arte. L'ultima è quest'opera che adesso vediamo di Daniele da Volterra. Allora, quanto è costata e dal suo punto di vista è giusto spendere per nuove opere? Cioè non sarebbe meglio sistemare e restaurare le collezioni esistenti? Allora, quanto è costata è totalmente top secret. Dovete domandarlo al direttore degli uffizi Eichel Schmidt. Per quanto riguarda gli acquisti da parte di un museo come gli uffizi o da parte anche dello Stato italiano, io credo che si debbano fare centellinati perché il patrimonio del nostro paese è straordinario. Noi abbiamo più del 50% del patrimonio storico e artistico che vi ha al mondo e purtroppo non sappiamo sfruttarlo, però credo che se dovessero capitare sul mercato cose come questo strepitoso Daniele da Volterra non dobbiamo farcele scappare. Quali sono le opere che mancano alla galleria degli uffizi? Ma è molto difficile. Gli uffizi sono un po' come un supermercato dell'arte, vi è tutto. Però se dovessi pensare a un'opera, chiamo particolarmente il famoso Caravaggio de Scalchi, un'opera notificata in mano privata. Non è in vendita, però nella vita quello che è privato prima o poi un giorno diventerà in vendita. Ma ecco, visto che prima non ci ha voluto dire il costo di quell'opera, questa più o meno quanto potrebbe valere? Lei sa, le opere di Caravaggio sono rare come quelle di Leonardo quando sono autografa e questa lo è. Non voglio sbilanciarmi su un prezzo, ma diciamo un prezzo stellare. Senta, ritorniamo all'immagine iniziale. Il Salvatore Mundi, cinque anni prima era stato venduto per 127 milioni di dollari. Diciamo che il prezzo, me lo diceva prima a telecamere spente, non so se si può dire, è oscillato tantissimo. Cioè che storia c'è? Ma è un quadro molto interessante che fu comprato da mio conoscente in un piccolo asta di Boston, come seguace di Leonardo per 5 mila dollari. 5 mila. Mamma mia. Una scoperta e questo capita perché i capolavori esistono se non sono andati distrutti e vanno solamente ritirati fuori. Ecco, poi non poteva essere acquistato anche dall'Italia. Poteva sicuramente quando è andata all'asta, ma credo che l'Italia con tutti i capolavori che ha non necessita sicuramente di compare questo quadro che, se mi si consente dirlo in questa trasmissione, ha sicuramente sfiorato un prezzo un po' folle. Ah, un po' folle. Allora, tra poco partirà la 31esima Biennale di Arte Antiquariato di Firenze a Palazzo Corsini. È qui che si muove un cacciatore di bellezza in questo ambito. E cosa rende unica questa manifestazione che vogliamo ricordare proprio oggi? Tanto compie i 60 anni e quindi un vero traguardo. È la prima grande mostra a mercato inventata dai fratelli Bellini che hanno messo in un contenitore i più grandi mercanti del mondo. Quindi noi diamo la possibilità quest'anno a Firenze, come ogni due anni, di vedere le più grandi opere d'arte sul mercato che si possono acquistare. Allora, noi ringraziamo Fabrizio Moretti, collezionista d'arte, che spero poi tornerà a trovarci. Grazie, grazie a voi. Grazie per essere stato con noi.